I isolamenti sono cessati. All'introvviso avevo nuove esperienze. Venevo conflitto, sofferenza, dolori, ma anche una speranza. Una missione. Ci servivano risposte. Dovevamo trovare un luogo sicuro. Dovevamo trovare la foresta viacciata. La foresta viacciata era solo un sistema ideato dal dottor Salim per le terapie sulle cavie del progetto segreto. Questa non è la foresta viacciata. Ti stai ancora opponendo. Nonostante questo caos...